torrini a cadere ben arrivato massimo torrini e nicola benassi dall'altra parte hanno voglia di cominciare ma stasera calmatevi dai so è in relax stasera tra poco si va a cena se andiamo a mangiare andiamo a letto subito subito che avete fatto tardi ieri sera anche però dai il primo anno lo facciamo ci conosciamo tanti anni per il primo anno incuriamo insieme e vedi che mai dire mai no a un certo punto nascono nascono gli gli sa che potrebbe essere magari una rotoparazione lunga perché no speriamo dai speriamo mettetevi alla prova l'un con l'altro e poi domani ci faremo di sapere se tutto ha funzionato torrini e benassi ciao ragazzi troppo volentieri di Niccolò Pirelli con Riccardo Mello